I soci fondatori costruirono un porto moderno per Ravenna. Ebbero l'ardire di sognare in grande. La capacità di immaginare e costruire il futuro. Il nostro impegno è stato quello di investire in tecnologia, in sicurezza, in qualità. Ma più di tutto abbiamo coltivato la crescita delle nostre persone. Il loro talento, la loro passione e la loro creatività. Gli ultimi anni ci hanno disorientato, ma questo è il momento di ripartire. Con il nostro lavoro e la nostra voglia di sviluppare il valore e l'eccellenza delle persone. Solo così possiamo fare grandi cose. Per noi, per i nostri clienti, per la nostra città. Per i nostri clienti! Grazie.